Sì, viaggiare, evitando le bughe più dure Sì, viaggiare, cantava Lucio Battisti, ma in macchina e sull'asfalto di una strada è troppo scontato. E' improbabile oltretutto se abiti a Venezia dove le strade non ci sono. E' così che questo signore ha pensato bene di modificare la propria jeep in una barca per navigare tra le isole della Laguna Veneta e fare qualche puntatina a Chioggia o a Venezia, arrivandoci par mar, come si dice qui. Poi, appena le acque lasciano il posto alla terra, la jeep torna ad essere auto. Il curioso video è apparso sulla pagina Facebook di Portisti Laguna Veneta, protagonista, forse, un emulatore di Marco Moretti, il ligure che arrivò a Venezia nel maggio scorso al timone della sua Maserati Biturbo, guadagnandosi riflettori di tutto il mondo. Grazie. Grazie.